buongiorno buongiorno abbiamo avuto qualche difficoltà con la chiave elettronica della porta si sono cambiate tipo tre o quattro ora? sono le sette e cinque pronti per stare e arrivo è minima spascabile ok e io paga ma tu te li inserto i mani? là sopra credo no ID card, welfare card qua amore Bills 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 ok ok pregare sit no issuing new ticket please wait thank you your card has an issue please delete your card come somebody there qui dove stai mandando? stiamo andando a Yongsan si e quando dobbiamo prendere la adesso siamo a Yehudo sulla linea viola si dobbiamo fare una fermata sulla linea cinque andare a Sinjil si cambiare prendere la blu verso Soyo-san ok e scendere a Yongsan ok 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 Sì, ti danno la cauzione del biglietto della metropolitana? E evitano delle fatte tutte queste carte di plastica che vengono puntate per te. Eh. Arte, il metro. Beh, non che sia sto granché, eh. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è un negozietto fantastico. Grazie a tutti. Questa è un negozio? Questa è un negozio? Questa è un negozio? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.